Un giovane di 33 anni originario di San Cataldo e residente a Caltanissette è stato arrestato dai carabinieri e collocato ai domiciliari con il braccialetto elettronico perché, secondo l'accusa, ha maltrattato ripetutamente la moglie dal 2013 fino allo scorso mese di luglio. È stata la stessa donna, stanca di subire continue vessazioni, a raccontare tutto ai carabinieri nelle scorse settimane e sulla base degli elementi raccolti il GIP David Salvucci ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Variegate le accuse contenute nelle carte dell'inchiesta, tra episodi in cui l'uomo avrebbe messo le mani addosso alla moglie e poi l'avrebbe anche insultata. Già nel 2013 si erano verificati i primi episodi stando alla ricostruzione investigativa e, secondo il racconto della persona offesa, l'indagata aveva cominciato a fare uso di stupefacenti, a frequentare persone poco raccomandabili. Dopo i primi maltrattamenti la donna aveva presentato una denuncia, poi ritirata quando il marito le promise di frequentare una comunità di recupero, sempre secondo in base al contenuto delle carte dell'inchiesta. Ma i problemi sarebbero poi ricominciati finché la situazione non si era fatta insostenibile. La scorsa estate invece, durante una vacanza al mare, l'uomo si era allontanato nel primo pomeriggio dell'11 luglio senza dare comunicazioni alla moglie e ai figli ed era tornato intorno alle venti ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. Addirittura, sempre in base al racconto della persona offesa, il marito aveva detto alla moglie di voler entrare in Giri Roschi per fare i soldi e al rifiuto di lei le aveva risposto di non essere una vera moglie e che se non si aiutavano da soli non li avrebbe aiutati nessuno. Mercoledì l'indagato, difeso dall'avvocato Riccardo Palermo verrà interrogato dal GIP.